Non c'è stato nessun rapimento, né è stata legata, bendata e ferita come si è ipotizzato. Federica si è allontanata da casa della nonna volontariamente. La giovane ragazza è uscita di casa intorno alle 19.30 per raggiungere la stazione ferroviaria e dirigersi nel Napoletano. Infatti, come testimoniano i filmati delle telecamere di video sorveglianza, la ragazza è stata vista passare proprio nei pressi del distributore di benzina, sito nei pressi della casa della nonna. Nella giornata di ieri la 14enne è stata interrogata insieme ai genitori dagli agenti della Polfer per diverse ore presso la stazione centrale di Napoli, dove era stata bloccata perché intercettata dai carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno segnalato la sua presenza presso lo scalo ferroviario. Quello che la città di Agropoli nei giorni scorsi ha vissuto sono stati momenti di ansia e di apprezzione per la ragazza, anche a causa della presunta telefonata che Federica avrebbe fatto alla madre intorno alle 1.30 di notte e nella quale lei stessa affermava di essere stata legata, bendata ed in ginocchio in una stanza buia, ma che sarebbe rientrata a casa presto, elementi che nella comunità hanno destato non poca paura. Esclusa dunque dai militari la pista del rapimento da parte di un gruppo di Rom che stazionavano nei giorni scorsi presso le sponde del fiume Testene e che, secondo sempre le varie voci che si sono susseguite e non confermate dagli inquirenti, Federica fosse stata trascinata su di un furgone portata via. Questa situazione ha portato ad uno stato di agitazione nei cittadini tanto da pensare che la città di Agropoli non fosse sicura, ma così non è. Sono state lunghe ore di attesa e di ricerche da parte dei carabinieri di Agropoli guidati dal capitano Fabio Lagarello, dei vigili del fuoco del distaccamento agropolese e anche dei volontari della protezione civile del gruppo comunale Città di Agropoli che hanno dato un supporto alle operazioni dei militari H24 senza mai fermarsi. Quello che è chiaro ad oggi è che Federica si è allontanata volontariamente e abbia preso il treno per recarsi nel napoletano nella prima serata di martedì. Infatti alle ore 22 del 14 luglio i carabinieri della compagnia di Agropoli hanno intercettato il cellulare della giovane ragazza proprio in una località del napoletano. Ancora da chiarire però il perché abbia deciso di recarsi nel napoletano, trascorrere l'intera notte fuori e soprattutto il perché della telefonata alla madre.